Nelle big match della settima giornata crolla il Pescara all'Adriatico al cospetto della Reggiana che vince la quarta gara di fila e sale di nuovo in vetta alla classifica. Primo KO stagionale per i Biancazzurri e prima sconfitta dinanzi ai propri tifosi. Proteste abruzzesi per la direzione di gara di Maranesi di Ciampino, rabbia al 91esimo in casa abruzzese per un KO ingiusto. Ma da domani si penserà alla gara di lunedì prossimo a Chiavari con la Virtus Sentella. Il tecnico Auteri non abdica dal 3-4-3, schiera la sua squadra con il modulo di sempre. In difesa si rivede Cancellotti, a centro campo le novità sono Giambò e Rasi. In attacco ci sono Clemenza, De Marchi e Dursi, assenti Veroli, Drudi e Frascatore. La squadra di Diana gioca con lo stesso modulo e con l'attacco pesante. Parte bene il Pescara che al terzo ha una buona opportunità con De Marchi che in area vede la sua conclusione deviata in angolo. Dopo due minuti De Marchi si scontra con Venturi in maniera fortuita con il portiere ospite costretto a lasciare il campo a Matteo Voltolini. E il Delfino a fare la gara con De Marchi che al 18esimo in area sbaglia tutto non riuscendo a servire il liberissimo Dursi tutto solo dalle parti del portiere ospite. Gli ospiti si vedono per la prima volta al 29esimo con un tiro angolato di Zamparo che chiama Di Gennaro al salvataggio in corner. Al secondo tentativo la formazione ospite passa con Guglielmotti che pescato in area al 35esimo da Contessa controlla e calcia all'angolino dove il portiere del Pescara non può arrivare. Da rivedere la posizione del giocatore Emiliano al momento del cross e anche il controllo del pallone il direttore di gara però convalida la rete. Pescara 0, Reggiana 1 ed ennesimo gol subito dai Biancazzurri in stagione. La squadra di Gaetano Teri vede le streghe con Dursi che ci prova al 37esimo ma la sua conclusione viene parata a terra da Voltolini. L'ex barese però si riscatta al 41esimo quando dopo un rimpallo in area ospite fa secco il portiere della Reggiana per il gol del pareggio. Nella ripresa viene equilibrio fino al 15esimo quando Giambò pennella in area un gran pallone per Ferrari che appena è entrato in campo al primo tocco fa 2 a 1. Pescara che mette la freccia ma che poi si tira troppo indietro subendo il gol del 2 a 2 ad opera di Lanini che lasciato solo in area non sbaglia per la nuova parità con dubbi anche sulla posizione delle bomber ospite proteste del Pescara ma il gol anche in questo caso viene convalidato dal direttore di gara. Accusa il colpo la formazione abruzzese in un finale di partita avvelenato. Al 37esimo i locali restano in 10 per l'espulsione di Giambò per doppio giallo e poi al 43esimo altro episodio dubbio con l'espulsione del portiere di Gennaro che in area tocca il pallone e poi Zamparo Maranesi assegna il penalty ed espelle l'estremo abruzzese con i biancazzurri che così restano in campo in 9 uomini. Dagli 11 metri lo stesso Zamparo Batterizzo è andato per l'occasione in porta segnando il gol vittoria per la sua squadra. Nel recupero c'è anche il rosso a Rosafio con la reggiana che resta in 10 dopo 5 minuti di recupero il tribice fischio finale dell'arbitro laziale e le proteste del Pescara che schiuma rabbia.